Eccolo qua! Partiti! In vantaggio Tushara davanti a Sunrise Spirit, Polar Game, Desert View, Erit e Fighters, Splint Core, Parpelletta e White Flower. Dopo 300 metri di corsa, Desert View e Tushara conducono davanti a Polar Game, Sunrise Spirit, Erit e Fighters, Splint Core, White Flower e Parpelletta. All'inizio della curva passa Desert View davanti a Tushara, Polar Game, Sunrise Spirit, Erit e Fighters, White Flower, Parpelletta e Splint Core. Poco prima dell'ingresso, in vantaggio Desert View davanti a Tushara, Polar Game e Sunrise Spirit, i cavalli entrano in dirittura. Con Desert View in vantaggio, attaccata all'esterno da Tushara, Sunrise Spirit e White Flower. Seguono Erit e Fighters e Splint Core, Passa, Sunrise Spirit davanti a Tushara, White Flower, Erit e Fighters. E sempre in leggero vantaggio, Sunrise Spirit davanti a White Flower, Perlini interne, Splint Core e Tushara. In vantaggio, Sunrise Spirit davanti a Splint Core, Tushara. In vantaggio, Sunrise Spirit davanti a Tushara. In vantaggio, Uniti eстрing Chi ofểni Spirit, e In vantaggio, dirti di trattor con musCD imbelleite aapat PLA, Uniti eставля per l' parteiurbano. Grazie a tutti